Cari amici, la mariatona è entrata nella sua fase finale e per facilitare la vostra partecipazione, cari amici, vi mettiamo a disposizione, diciamo, un modo molto pratico per fare una donazione, cioè con carta di credito o Paypal attraverso il modulo che vedete qui sotto. Evidentemente per altre forme di donazione potete sempre visitare la nostra pagina di internet www.radomaria.it cliccando Dona Ora. Bene carissimi, il motivo per cui vogliamo facilitare questa vostra partecipazione anche perché con Radio Maria moltissimi ascoltatori sono fra i 3 e 4 milioni settimanali di cui soltanto 100.000 sono donatori, cioè sono quelli che ci hanno permesso finora di andare avanti in Italia, anche nel mondo e però man mano che si va avanti gli impegni diventano sempre più gravosi e quindi abbiamo bisogno di un supporto maggiore, cioè di un numero maggiore di ascoltatori che diventino anche sostenitori. Questo è necessario per una radio come la nostra, una radio di conversione, di evangelizzazione, una radio che si fonda sulla preghiera, una radio che si fonda sull'amore per la Madonna e non sulla pubblicità e vogliamo appunto allargare questo numero di persone che sostenono Radio Maria e così poter anche andare in conto a tante richieste che noi vi abbiamo fatto conoscere attraverso in tanti modi, attraverso la rubrica Accendi una nuova Radio Maria, però vorrei segnalarvi in questo momento tre opzioni molto importanti per noi. Prima di tutto l'inizio di Radio Maria in Nigeria, un paese di 180 milioni di abitanti di cui la metà sono cristiani e la grande maggioranza sono cattolici e lì noi abbiamo la possibilità, abbiamo già la sede, l'associazione e adesso lo Stato ha messo sul mercato le frequenze per cui se non partecipiamo adesso passeranno degli anni prima che possiamo partecipare e Dio sa quanto è importante una Radio Maria in Nigeria, poi due paesi di antica cristianità cari amici dove la fede sta morendo, uno è l'Australia, un paese dove ci sono tanti italiani, centinaia di migliaia di italiani l'italiano è la seconda lingua più portata nelle case e abbiamo già la sede e abbiamo già un gruppo di persone pronte a partire, dobbiamo partecipare alle frequenze DAB digitali che lo Stato mette a disposizione e la stessa cosa in Inghilterra, in Inghilterra proprio a Cambridge abbiamo un gruppo di persone che ha già una sede sono già pronti per partire, anche lì dobbiamo, abbiamo la possibilità di partecipare al DAB cioè alle frequenze digitali che ci permetterebbero di trasmettere sia in una parte importante dell'Australia sia in una parte importante dell'Inghilterra, sono occasioni che non possiamo perdere cari amici quindi vorrei dirvi cari amici, concretamente voi avete la possibilità adesso con il modulo lì sotto di partecipare attivamente con la carta di credito con Paypal oppure se volete usare altre forme di donazione potete andare sul nostro sito www.radiomaria.it di internet e cliccare appunto dona ora coraggio cari amici siamo nella fase finale, è il momento di correre, aiutiamo la Madonna ad aiutarci Buona mariatona Buona mariatona